Assessore Mazzer, una spolverata di neve a Pordenone questa mattina. Come si è attivato il comune? Era da tempo che l'aspettavamo, era una settimana che eravamo pronti. Sapevamo che stamattina ci sarebbe stato questo rischio, alle 8 è partito il piano neve. La situazione ovviamente è limitata perché non c'è stata una grande nevicata. Il vero problema che abbiamo è perché questo nevischio che cade sul terreno gelido non si scioglie da solo, neanche durante la giornata si scioglierà, abbiamo bisogno di spargere il sale. Soprattutto per prevenire quella che sarà la gelata di questa notte. Il tempo si sta rasserenando, stanotte si abbasseranno le temperature, quindi il lavoro che faremo tutta la giornata di oggi è proprio in previsione della gelata notturna. Noi stiamo facendo innanzitutto le strade principali, stiamo facendo poi tutte le scuole, stiamo facendo le zone degli ospedali, le zone degli istituti e degli uffici pubblici. Faremo tutto un lavoro di rifinitura anche nelle zone che sono più all'ombra, più marginali, in maniera che ci prepariamo la notte così. Domani mattina però io raccomando prudenza sia a coloro che vanno in automobile, sia a coloro che vanno a piedi o in bicicletta, perché malgrado l'effetto del sale ci sarà una gelata e quindi ci saranno delle parti dove ci potrebbero essere delle placche di ghiaccio. Grazie a tutti.